Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale oggi in questo breve video vedremo come risolvere un problema di una lavastoviglie della Bosch in particolare parleremo dell'errore E06 che può apparire in queste determinate lavastoviglie se non erro sia la Bosch sia Siemens hanno questo problema però in questo caso vedremo a cosa si riferisce questo errore errore che sinceramente nel manuale che viene ad esempio dato agli utenti non specifica il problema a cui si va incontro ma ti dice rivolgersi all'assistenza tecnica dopo aver ovviamente un po' spulciato su internet sono riuscito a capire a trovare un manuale tecnico e a vedere nello specifico di cosa si tratta ma andiamo avanti e vediamo subito di cosa si tratta ovviamente si riferisce a un sensore questo qui è il sensore che praticamente ci dà il problema che va a segnalare poi la lavastoviglie con E06 quindi il seguente errore segnala un malfunzionamento di un sensore in particolare il sensore che rileva la chiusura e l'apertura dello sportello infatti questo sensore è proprio in prossimità dello sportello della c'è della chiavatura che va praticamente a chiudere a bloccare lo sportello questo sensore è detto ad effetto Hall perché è un sensore di rilevamento di campo magnetico infatti qui all'interno c'è la chiusura si va ad agganciare la chiavatura e quindi quella è presente una calamita quando si va ad inserire quella calamita in questo alloggiamento qui in prossimità come potete vedere c'è il piccolo sensore e va a segnalare l'avvenuta chiusura in questo momento quindi possiamo ovviamente far partire la centralina segnala che lo sportello è chiuso e si può avviare il programma ma dove si trova ovviamente questo sensore? si trova qui nel pannellino in questa sezione qua e basta rimuovere questo pannellino ovviamente aprire lo sportello togliere alcune viti le viti sono che poi vedremo velocemente anche in qualche immagine ovviamente non vi farò vedere le immagini di come lo smonto ma giusto vi faccio vedere dove andare a mettere le mani perché questo video non volevo farlo poi ci ho pensato però avevo già sostituito il sensore ho detto magari può servire a qualcuno sapere cosa cambiare almeno o cosa andare a dove andare a mettere le mani per risolvere il problema quindi vi farò vedere giusto delle immagini di dove andare a mettere le mani e togliere le viti ma le viti ovviamente sono qui nel pannello all'interno bisogna togliere sia le viti di questo pannellino se non erro sono sei viti che ci permettono di rimuovere il pannello in plastica con tutta diciamo l'elettronica per togliere però il pannello va un pochino allentato anche il pannello frontale il pannello frontale lo si allenta tranquillamente rimuovendo queste viti qua che sono qui dietro e poi tranquillamente si può accedere al sensore questo sensore è installato praticamente qua basta svitare due viti staccare lo spinottino e siamo riusciti tranquillamente a rimuovere il nostro sensore ripeto anche se non vi farò vedere nel dettaglio come smontarlo però davvero molto semplice c'è da togliere qualche vite e rimuovere uno spinottino e il sensore viene via tranquillamente dopo la sostituzione potete tranquillamente prendere un pezzo originale o comunque similare il pezzo vi consiglio di cercarlo per mezzo del codice che è presente sul sensore dopo averlo comunque ritirato potete tranquillamente a ritroso mettere lo spinottino avvitare le vite avvitare i pannelli e le vite dei pannelli e il problema è risolto ma a questo punto vediamo giusto e velocemente il sensore vi farò vedere adesso il sensore fisicamente e poi delle immagini dove ovviamente commentate che vi dico quale viti togliere e cosa fare quindi passiamo alle immagini allora eccoci qui questo è il sensore che sono andato a rimuovere lì in prossima età dello sportellino come vedete ci sono queste due viti che lo tengono internamente basta poi svitarle togliere lo spinottino e se ne viene tranquillamente per andare a cercare il sensore lo si può cercare tranquillamente con il codice non so se si vede ma qui c'è una un piccolo codice lo si può inserire e potete tranquillamente trovarlo quello che ovviamente questo è un pezzo in plastica il sensore in sé ovviamente come potete vedere è piccolissimo e questo qua e sta in questa piccola cavità come vedete è un sensore ad effettolo quindi di campo magnetico che va a rilevare quando si va a chiudere lo sportello il magnete che è presente nella parte superiore e quindi va a segnalare l'avvenuta apertura se questo si brucia ovviamente non darà mai il consenso comunque se non rileva il piccolo sensore perché è bruciato ovviamente la centralina segnalerà questo errore è 0.6 e quindi non vi farà più nemmeno cambiare programma cioè appare il primo programma e successivamente dopo qualche secondo appare questo errore e non vi fa fare più nulla ripeto questo codice errore all'interno del manuale che vi forniscono non era presente ho dovuto un pochino spulciare un po' trovare un manuale un pochino più tecnico dove mi segnalava che effettivamente questo codice errore era dovuto a questa tipologia di sensori detti ad effetto all non vi ho detto prima ovviamente di togliere la corrente prima di mettere le mani non c'è problema perché alla fine lo si può fare anche senza però per chi non è esperto meglio ovviamente staccare la corrente della presa quindi disalimentare la lavastoviglia attendere qualche minuto affinché tutti i condensatori e le cariche interne si scarichino e poi potete mettere le mani svitare i pannelli e andare a rimuore questo sensore per ovviamente montarlo sono due semplici viti come vedete lo si innesta di sotto si mettono le viti dalla parte dello sportellino si blocca si chiude e si va a provare effettivamente se il tutto è dato a buon fine come vedete un semplice sensore di meno centimetro vi va a bloccare la lavastoviglie adesso passiamo alle immagini che vi dove ovviamente commentate in cui vi vi dico dove sono le viti ovviamente vi faccio vedere dove il sensore in questo caso vicino allo sportello quindi passiamo alle altre immagini allora come vedete questo è il pannellino frontale il sensore si trova in prossimità dello sportellino praticamente questo qui che è evidenziato come vedete basta semplicemente togliere queste due viti queste due viti qua sono lo mantengono sul pannello per rimuovere invece il pannello frontale come vedete ci sono queste tre viti laterali invece per rimuovere eh tutta la parte relativa alla plastica all'elettronica ci sono altre sei viti rimuovendo queste prima fate rimuovete le sei viti del pannellino successivamente allentato un pochino quella del pannello e potete poi successivamente accedere per la rimozione di questo sensore qua questo qui invece come vedete è la chiavatura comunque il sensore che è presente qui in prossimità dello sportello nel momento in cui andiamo a chiudere il nostro il nostro sportellino viene rilevato il campo magnetico del da parte del sensore e ovviamente la vostra viglia dà il consenso comunque la centralina dà il consenso di poter azionare il programma che a noi interessa questo è tutto e a questo punto vi invito al prossimo video se il video vi è piaciuto ovviamente mettete un like alla prossima grazie ciao